E' stato messo agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio stradale il conducente quarantenne del furgone che ieri attorno alle 22 sul lungomare di Tortoreto ha investito due amiche, uccidendone una e ferendone l'altra. Nei suoi confronti i militari dell'arma contestano l'omicidio stradale. E' stato trovato positivo all'alcol dopo gli specifici teste a cui è stato sottoposto. Secondo una prima ricostruzione il mezzo furgonato viaggiava a una velocità eccessiva in una zona in cui di recente è stata istituita la cosiddetta zona 30. L'uomo subito dopo l'accaduto è stato accompagnato per accertamenti in caserma e ascoltato durante la notte. All'esito delle analisi che hanno trovato un tasso alcolemico maggiore del consentito, sentito il magistrato, il quarantenne di Alba Adriatica è stato oposto agli arresti domiciliari. La vittima, Roberta Fiano, 56enne di Martinsicuro, era in compagnia del figlio e di un'amica e uscivano da un ristorante sul lungomare Sirera dove erano state a cena per festeggiare il ritorno a casa dopo un periodo di degenza ospedaliera. Il furgone è piombato su di loro mentre si trovavano a bordo strada e si accingevano molto probabilmente ad attraversare in prossimità delle strisce pedonali. Roberta Fiano è morta sul colpo mentre l'amica ha riportato diverse fratture e un trauma cranico, per questo è stata trasferita all'ospedale Mazzini Teramo e secondo i sanitari la donna non correrebbe pericolo di vita. Signor Carlo, ieri è stato avvisato da suo figlio del gravissimo incidente, lei inoltre conosceva la donna? Sì, la conoscevo, mio figlio stava lì al ristorante e mi ha mandato un messaggio, poi dopo quando ho visto le prime notizie su Facebook, Roberta, Roberta era la nipote di mio zio Guerino che poi lui se l'ha adottata come figlia, infatti quella si chiama Roberta Fiano Iampieri. Una brava persona, brava, sfortunata, più che altro, ma è sfortunata perché è morto un figlio, un infarto, il primo, mi dispiace perché è una brava persona Roberto. Un drammatico incidente che riapre la problematica legata alla velocità delle auto sul lungomare, questo nonostante il limite dei 30 km orari. È una cosa scritta, ma ci vogliono i dossi per evitare che camminano a queste velocità. Perché anche a 50 all'ora se investi una persona pensi che bene non se la passa. La cosa più pericolosa è d'estate quando c'è traffico di gente e quindi la gente oltre al telefonino guarda pure il mare, capito? È quella.